Nuovo appuntamento con Spazio e Notizia. Ben ritrovati su Sicilia 24. Apriamo parlando di un grave fatto di cronaca avvenuto nel Ragusano. Una donna di 52 anni è stata uccisa, coltellate dal cognato che è stato arrestato dai carabinieri. Il delitto è avvenuto a Giarratana, nel Ragusano, nella casa della madre della vittima dove la donna si trovava per accudirla di notte. La 52enne è la moglie di un brigadiere dei carabinieri in servizio a Ragusa. Al momento non si conosce il movente dell'omicidio. Le indagini sono coordinate dalla procura di Ragusa. Ci spostiamo adesso nella Catanese per la precisione a Mister Bianco dove un 38enne è stato arrestato dai carabinieri e poi posto ai domiciliari. Continuava infatti a maltrattare e minacciare di morte l'ex convivente. Vediamo il servizio. La procura distrettuale della Repubblica, nell'ambito di indagini a carico di un 38enne catanese indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, ha richiesto e ottenuto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari eseguita dai carabinieri della tenenza di Mister Bianco. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce sulle condotte abituali e reiterate che sarebbero state poste in essere dall'uomo nei confronti dell'ex convivente dal marzo 2020 al novembre 2022, consistite in vessazioni psicologiche, denigrazioni e minacce gravi. Il rapporto di convivenza tra i due, dal quale erano nate due figlie, sarebbe stato caratterizzato da manifestazioni ossessive di morbosa gelosia da parte del 38enne con continue accuse di tradimento e di controllo delle uscite della donna, nonché ripetute espressioni denigratorie e offensive. La decisione della donna, presa nel marzo 2020 di interrompere la relazione sentimentale, avrebbe scatenato una vera e propria caccia da parte del 38enne nei suoi confronti, a partire dalle numerose incursioni sotto casa della madre dell'ex per tentare di riallacciare il rapporto sentimentale e dalla ferma intimazione del divieto di non frequentare altri uomini. Esasperata da tali ripetute condotte persecutorie e di prevaricazione nei suoi confronti, la donna, alla fine del mese di marzo 2020, aveva denunciato il 38enne, il quale avrebbe manifestato qualche cambiamento di atteggiamento nei suoi confronti. Dopo la denuncia, i due avrebbero nuovamente convissuto, seppure per brevi periodi, vivendo momenti di tranquillità alternati con periodi in cui la donna sarebbe stata destinataria di molestie reiterate da parte dell'uomo, con telefonate e messaggi dal contenuto offensivo e intimidatorio. Tuttavia, puntualmente, sarebbe riemersa l'indole ossessiva del 38enne, il quale avrebbe continuato ad apostrofare la donna con parole volgari e offensive, a minacciarla di morte e a presentarsi sovente presso la sua abitazione, danneggiando, peraltro, il pulsante del citofono bruciandolo con un accendino. La convocazione della donna, fissata per il mese di febbraio 2023 per rendere testimonianza in tribunale nell'ambito del procedimento penale instaurato in seguito alla denuncia presentata nei confronti del 38enne, avrebbe spinto quest'ultimo a rivolgerle minacce di morte qualora avesse deciso di presentarsi in tribunale. Fortemente turbata da tali minacce, la donna ha deciso di non presentarsi all'udienza in argomento comunicando le sue intenzioni al 38enne, il quale, di contro, l'avrebbe anche incoraggiata a presentarsi tranquillamente ma con la minaccia velata e la sfida a farlo prospettando gravi ritorsioni qualora avesse deciso appunto di presentarsi. Torniamo a parlare di Denise Pipitone perché potrebbero esserci delle novità. Siamo stati informati ieri sera per mezzo dei vari messaggi che ci sono pervenuti, non eravamo a conoscenza di nulla. Rimaniamo in attesa di eventuali notizie concrete, sempre con i piedi a terra. Non possiamo permetterci illusioni dolorose. E quanto scrivono sul loro profilo social Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1 settembre del 2004 a Mazzara del Vallo. Durante la trasmissione televisiva a quarto grado, infatti, è stata data la notizia che i carabinieri avrebbero prelevato in un campo rom a Roma il DNA di una ragazza bosniaca di 20 anni che potrebbe essere Denise Pipitone. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo adesso ad Alcamo, nel Trapanese. Parliamo di una rapina commessa in un negozio del centro di Alcamo. Il responsabile di questa rapina è stato beccato dai carabinieri, incastrato anche dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alcamo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Trapani su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di un giovane alcamese di 36 anni per cui si è ritenuto sussistano gravi indizi di colpevolezza per una rapina aggravata. Il provvedimento cautelare scaturisce dalle indagini condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Trapani a seguito di una rapina in danno di un negozio di abbigliamento nel centro di Alcamo avvenuta alla fine del mese di gennaio. Gli inquirenti, attraverso escursioni testimoniali e la minuziosa analisi dei sistemi di videosorveglianza ritengono di avere individuato il presunto autore. In particolare, il giovane, col volto travisato, si sarebbe introdotto nell'esercizio commerciale e, approfittando dell'assenza di clienti, avrebbe minacciato con un coltello a serramanico la titolare, costringendola a consegnare il registratore di cassa contenente la somma di 180 euro circa. Compiuta l'azione delittuosa, l'uomo sarebbe poi scappato a piedi, abbandonando poco lontano il registratore di cassa dopo averlo svuotato del denaro. L'indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ci spostiamo virtualmente nella Palermitano. Parliamo dei controlli effettuati dai carabinieri a Bagheria ed intorni. Il bilancio di questi controlli parla di tre arresti e due denunce. Vediamo perché nel servizio. I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno intensificato nelle ultime settimane i controlli sul territorio, effettuando un servizio coordinato a largo raggio fra le stazioni. In particolare a Casteldaccia, i militari della locale stazione, in due distinti episodi, hanno arrestato due persone con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nel primo caso si trattava di un 42enne fermato durante un posto di controllo in orario notturno a bordo della propria autovettura. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, avrebbe aggredito i militari, provocando loro delle lievi contusioni e danni all'autovettura di servizio. Nel secondo caso, invece, sempre a Casteldaccia, nel corso dei festeggiamenti di Carnevale, un 25enne avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente due vigili urbani che stavano tentando di identificarlo. I carabinieri in servizio di ordine pubblico sono immediatamente intervenuti, arrestando il giovane mentre tentava di darsi alla fuga. Entrambi gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Merese, che ha disposto in entrambi i casi l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e per il 42enne anche l'obbligo di dimora nel comune di residenza. A Figarazzi i militari dell'arma hanno invece denunciato in stato di libertà due giovani che, secondo l'ipotesi investigativa, si sarebbero introdotti nella notte all'interno di un bar del luogo, previa effrazione della porta d'ingresso e avrebbero rubato un motore per frigoriferi. Dopo l'identificazione, i carabinieri hanno perquisito le rispettive abitazioni, rinvenendo e sequestrando il motore sottratto ancora nella disponibilità dei due e lo hanno successivamente restituito al proprietario. Infine, i militari della stazione di Ventimiglia di Sicilia hanno arrestato una ventottenne del posto in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale la giovane era già sottoposta. La misura, emessa dal GIP, è scaturita a seguito delle numerose evasioni accertate. La donna è stata rintracciata a Palermo, nuovamente fuori dalla propria abitazione e tradotta presso la casa circondariale Pagliarelli. Operazione antidroga ad Avola. Nel Siracusano parliamo di spaccio di stupefacenti nella zona delle case popolari. Sono sei le persone finite in manette. Tutti i dettagli nel servizio A conclusione di un'articolata e complessa attività investigativa svolta dal commissariato di Avola, coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, 40 unità della Polizia di Stato hanno dato esecuzione, in ottemperanza all'ordinanza di misura cautelare personale emessa dal giudice per le indagini preliminari, alla misura della custodia in carcere nei confronti di quattro soggetti e la misura degli arresti domiciliari nei confronti di altre due persone. Nello specifico, gli stessi risultano indagati per il delitto di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato per avere in concorso tra loro organizzato la relativa attività di approvvigionamento, suddivisione in dosi e spaccio dello stupefacente del tipo cocaina ed eroina. Inoltre, i vertici di questa organizzazione si servivano anche del contributo materiale e morale di terzi, che materialmente cedevano al minuto lo stupefacente, assicurando la propria prestazione lavorativa illecita in fasce orarie predeterminate e percependo una remunerazione fissa giornaliera. Detta attività, perpetrata in modo così continuativo e quotidiano, ha dato vita a una piazza di spaccio in cui sono state riscontrate più di 150 cessioni al giorno, con conseguenti ingenti profitti economici nell'ordine di diverse decine di migliaia di euro. L'articolata attività investigativa espletata dal commissariato di Avola ha consentito di ritenere che la piazza di spaccio oggetto d'indagine fosse sottoposta al controllo di due soggetti, in quanto un primo gestiva lo spaccio di cocaina e il secondo invece organizzava l'attività di spaccio dell'eroina. La cessione della cocaina avveniva nelle fasce orarie diurne attraverso un pusher di sua fiducia che espletava tale attività a fronte di un corrispettivo giornaliero e in ottemperanza alle disposizioni ricevute circa le modalità dello spaccio e l'eventuale possibilità di cessioni a credito al cliente ritenuto affidabile. L'organizzazione risultava capillare e precisa in quanto il venditore al dettaglio ha svolto la propria attività illecita nel piazzale delle case popolari, con l'incarico di smerciare lo stupefacente dalle 8 alle 20, domeniche escluse. Pertanto ogni mattino prelevava lo stupefacente da smerciare all'interno della palazzina adiacente, lo occultava sotto piccoli depositi di terra presenti ai bordi di un muro perimetrale in attesa dell'arrivo degli assuntori cui cedeva repentinamente le dosi richieste. Parimenti, detto servizio, era assicurato anche nelle fasce orarie notturne e nei giorni festivi, essendo l'attività gestita da un altro soggetto appositamente impiegato per quel tipo di turno, facendo sì che fosse garantito l'approvvigionamento agli assuntori 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. L'organizzazione risultava essere pronta a fronteggiare anche eventuali imprevisti, quale l'impossibilità lavorativa o, peggio, l'arresto del pusher normalmente impiegato, facendo sì che la stessa mansione potesse essere svolta da un altro soggetto di fiducia prontamente reperibile e dotto puntualmente delle mansioni da espletare. La gestione del traffico di roina, invece, era organizzata in maniera differente in quanto l'altro soggetto, in via prevalente, curava personalmente lo smercio, ricevendo gli assuntori in prossimità dell'uscio ad ingresso della propria abitazione. Anche in questo caso, parimenti con quanto avveniva per lo spaccio di cocaina, veniva assicurata una possibilità di approvvigionamento per gli assuntori 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana. In tale attività sono stati appurati specifici contributi materiali apportati da un coniuge del predetto evidentemente del tutto consapevole dell'attività illecita condotta dal marito. Pertanto, data la capillare organizzazione, è stato dimostrato come i due soggetti che avevano un vero e proprio ruolo organizzativo nell'attività di spaccio, rispettivamente della cocaina e dell'eroina, avevano instaurato un vero e proprio gemellaggio finalizzato a realizzare, nell'area prospicente della loro residenza, un luogo atto a richiamare i tossicodipendenti non solo locali, ma di tutta l'area centrale e meridionale della provincia Aretusea. A Gioiosa Marea, invece, un 34enne, siamo nel Messinese, è stato arrestato dai carabinieri per aver commesso una serie di furti in abitazioni e su autovetture in sosta. I carabinieri della stazione di Gioiosa Marea hanno eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, su richiesta della Procura della Repubblica locale, contro un uomo di 34 anni già noto alle autorità per vari reati di furto aggravato in abitazioni e su autovetture in sosta. Il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo per i furti commessi tra novembre e dicembre 2022. Le indagini hanno preso avvio da numerose denunce di furto commessi in appartamenti e su auto in sosta a Gioiosa Marea. Grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadina, i carabinieri sono riusciti a identificare il responsabile dei crimini nel 34enne. Gli accertamenti hanno inoltre rilevato che l'obiettivo dell'uomo era sempre quello di rubare denaro e bevande alcoliche. L'indagato è stato rintracciato dai carabinieri e ha confessato spontaneamente di essere l'autore dei furti. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari mentre è stata avviata la procedura per la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza. È tutto, ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. Grazie a tutti. Grazie a tutti.